Ciao, sono Michela Santi, ho 23 anni e sono un'attrice romana. Diciamo che questo video un pochino mi ha messo in difficoltà, perché sono una persona ansiosa, ma nello stesso tempo ho anche testarda e determinata, infatti l'ansia non mi ha mai preubito di inseguire il mio sogno, che è quello appunto di diventare un'attrice. Da fin da piccolina mia madre mi chiedeva che cosa vuoi fare da grande, che cosa vuoi fare da grande, io rispondevo la stars, quindi già da là si è capito tutto. Nel mio tempo libero mi piace, vivendo in un quartiere di periferia che si chiama Centocelle, mi piace andare lì sul set, perché molto spesso girano film, serie tv, vado lì e mi metto a guardare tutto, sto ore e ore lì, infatti molte volte mi dicono ma che ci fai qui, ho detto niente, osservo solo, guardo tutto, ogni movimento di camera, che cosa fanno le comparse, tutto e di più. Un'altra mia passione nel tempo libero è quella di viaggiare, perché mi stacca dalla quotidianità e mi rende molto libera, cioè mi sento libera quando viaggio. Nella vita ho praticato alcuni sport, tra cui il palavolo e ginnastica artistica e soprattutto il nuoto, perché l'ho praticato da quando sono piccolina a livello agonistico, quindi mi piace molto, è uno sport che adoro. E niente, adesso vi mostro i miei profili. Queste sono le mie mani. Ciao, grazie! Ciao, grazie! Grazie.